Assessore, oggi in Regione presentate questo interessante progetto sulla biodiversità. Oggi il vero salto di qualità, viviamo il momento dell'emergenza climatica, però il vero salto di qualità, al di là di tutti i progetti che noi come Regione Abruzzo stiamo mettendo in campo, sarà la formazione e la sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali. Quindi dovremmo essere bravi attraverso questa emergenza di trarne dei giusti benefici e delle opportunità, delle opportunità che siano poi capaci di aumentare la qualità di vita dei nostri cittadini. Questo è un modo perché è ormai risaputo, lì dove c'è la tutela della biodiversità c'è anche la crescita del benessere dei cittadini che ci vivono. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli e cerchiamo di promuovere e di far sviluppare progetti come questi, che possano in effetti trovare un giusto equilibrio tra quelle che sono le esigenze poi antropiche e la tutela delle realtà ambientali e naturalistiche. È un nuovo modo di informare i cittadini, informare i ragazzi, quindi anche attraverso interventi didattici sul posto, quindi in effetti nel assaporare anche gli odori, i gusti di quelle che sono le realtà che abbiamo nel nostro territorio.